Trottano i quattro candidati per il cavallo vincente che diventerà sindaco di Pescara dove è previsto se necessario il turno di ballottaggio. Manca una manciata di giorni alle elezioni dell'8 e 9 giugno, iniziative, conferenze stampa, comizi. Il sindaco uscente ricandidato Carlo Masci del centro-destra oggi ha presentato la candidatura di Pescara a Città d'Arte Contemporanea 2026 con una serie di eventi. Masci ha detto che la città ha un vissuto e un'esperienza di promozione di arte contemporanea incredibile. Si chiamano raccolta enti, associazioni e fondazioni per presentare dei progetti e l'attività diffuse su tutto il territorio con rigenerazione urbana e i giovani protagonisti. Ieri il deputato Dem D'Alfonso in provincia Pescara ha parlato tra l'altro della nuova realtà che prevede la fusione di Pescara-Montesilvano-Espoltore con il padre dell'iniziativa e candidato sindaco del centro-sinistra Pescara Carlo Costantini. L'iniziativa pubblica dal titolo L'intervallo è finito, Pescara si rimette in marcia, ha previsto la presenza di candidati del Partito Democratico al Comune di Pescara e al Parlamento europeo. Costantini ha parlato di quella che tra tre anni dovrà essere la nuova realtà, una città forte, ampia, proiettata al futuro. D'Alfonso intanto ha discusso di tre priorità, il fiume, l'aeroporto che sta perdendo, dice sempre più utenti, è la ferrovia. Il candidato di coalizione civica Domenico Pettinari oggi è tornato in via lago di Borgiano, dice sotto le case dello spaccio, ancora nelle periferie, per chiedere la sicurezza dei cittadini. Ne ha avute per il centro-destra e per il centro-sinistra con l'accusa di non aver protetto i cittadini. Pettinari propone maggiori controlli e tuona contro gli episodi di criminalità che ci sono stati. Una città come Pescara non può permettersi questo. Gianluca Fusilli, Stati Uniti ed Europa, è stato sotto la sede dell'assessorato alla sanità. Io Gianluca Fusilli ha detto, candidato alla carica di sindaco di Pescara, che la prima autorità sanitaria del comune, mi impegno qualora eletto a richiedere alla Regione Abruzzo l'immediata individuazione dell'ospedale Pescara, quale idea di secondo livello, sottoscrivendosi da ora l'impegno a ogni utile iniziativa, anche di ordine giudiziario finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo, senza sconti per nessuno, nella consapevolezza e in assenza del servizio salvavita della gravosa e penalizzante ricaduta sulla vita e sulla salute dei nostri cittadini. I miei competitori, conclude, assumano la medesima responsabilità.